Abbiamo voltato le spalle al dovere più importante che ci è stato donato. Vivere una vita ricca di esperienze. Questa è la scelta indipendente che abbiamo. Afferrate la vostra esistenza, gente. Perché non facciamo della morte la nostra compagna del cazzo più stretta, così da avere finalmente un secondo, solo un millisecondo per poter apprezzare quel poco di tempo ancora che abbiamo. C'è un'ultima cosa, la più importante. Viviamo in armonia, così da poter morire in armonia. Perché non siamo mai stati così vicini alla morte. Salute! Accidenti, Richard! Sono di cristallo! Allora! Grazie a tutti.